Ciao da Walter, oggi voglio parlarti di come anche un analista esperto può essere tratto in inganno dal proprio bagaglio culturale e anche del perché è molto meglio adottarsi di un metodo pratico e soprattutto che sia oggettivo nelle scelte. Il Nasdaq, si sa, ha fatto molte vittime, in senso ovviamente metaforico, anche molti, molti illustri commentatori. E' per quello che oggi nessuno azzarda più previsioni, tanto comunque sale sempre, quindi è facile. Poi però è successo che nella primavera del 2021 sono iniziate a trapelare tutta una serie di notizie che abbiamo reputato interessanti, dal rialzo dell'inflazione fino al caro Materie Prime per arrivare poi alla rotazione settoriale in atto con l'SP500. Allora prontamente nel nostro magazine mensile abbiamo commentato come il valore dello swing a 12.800 punti fosse un po' uno sparteacque tra long e short, ovvero una chiusura eventuale al di sotto avrebbe sancito un cambio di rotta dell'indice. Osserviamo insieme dal grafico che ti propongo come ad un certo punto l'indice abbia mostrato chiari segni di rallentamento nel momentum. Da febbraio fino a giugno di quest'anno si è mosso all'interno di un range laterale molto ristretto. E invece no, ci risiamo. Altro storno che era solamente una nuova occasione d'acquisto. Alla fine, ancora una volta, come vedi dal grafico, aveva ragione il Trendycator. Ha tenuto ferma la barra per tutto questo tempo mantenendosi sempre in territorio verde. Quindi sappiamo che quando il Trendycator è verde significa long e quando il Trendycator è rosso significa che dobbiamo uscire dalla posizione. Sappiamo che il Trendycator non è infallibile e non è sicuramente una formula magica, ma quando è più bravo di qualunque analisi soggettiva è bene dargli atto. Vieni dunque a trovarci sul rendimentofondi.it e neutralizza anche tu la tua emotività sui mercati grazie al Trendycator. Ti ricordo che potrai attivare la tua prova gratuita di una settimana. Ci vediamo dunque su rendimentofondi.it